Il mio amico Giovanni. Si chiama così l'ultimo libro scritto da Pietro Grasso, ex magistrato e procuratore nazionale antimafia, oltre che presidente del Senato dal 2013 al 2018. Un racconto commosso, quello di Grasso, testimonianza degli anni del maxiprocesso e della lotta alla mafia al fianco di Falcone e Borsellino. Come loro sarebbe dovuto morire in un attentato che poi non andò a segno. Come commosse sono anche le sue parole davanti agli studenti dell'Istituto Massari Galilei di Bari che lo hanno incontrato per ascoltare da chi gli ha vissuti in prima persona la durezza degli anni in cui le mafie colpivano lo Stato. Prima del mio amico Giovanni Pietro Grasso aveva pubblicato il libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi, anche questa una testimonianza degli anni da magistrato. E agli studenti che gli hanno chiesto come mai abbia deciso di raccontare quegli anni e la sua amicizia con i due magistrati vittime di mafia, ha risposto che lo ha fatto per poter lasciare una traccia dei momenti intimi vissuti con loro e per poter creare una strada per un futuro migliore del presente che stiamo vivendo. Ognuno deve chiedersi cosa può fare per combattere la mafia perché c'è bisogno di tutti noi, ha aggiunto l'ex presidente del Senato invitando i ragazzi ad appassionarsi allo studio perché solo lo studio apre le porte al futuro.